Benvenuti ai nostri cari follower. Se comincia dalle prime ore del mattino di lunedì 28 agosto 2023. Un uragano molto forte raggiungerà l'Italia, accompagnato da grandi quantità di pioggia, tutte le regioni d'Italia da nord a sud. Per quanto riguarda le piogge, saranno presenti e forti nelle regioni settentrionali e centrali dell'Italia e in singole zone del sud, e oggi l'ultimo aggiornamento del modello europeo. Avverte in particolare tutte le regioni del nord e del centro Italia, dal pericolo dell'arrivo di questo forte uragano, a partire da domani mattina, lunedì, come ho detto. Accompagnato dalla caduta di chicchi di grandine di grandi dimensioni e grandi quantità di pioggia in un periodo di tempo molto breve, che potrebbero portare a grandi inondazioni. Questo uragano si trova attualmente in Spagna e causa grandi perdite economiche, a causa delle abbondanti piogge e dei forti venti. Si tratta di una tempesta che ruota in senso anti-orario e con grande velocità e che entro poche ore entrerà nel bacino occidentale del Mediterraneo. Presto raggiungerà le regioni nord-occidentali dell'Italia, per poi spostarsi con forza verso tutte le regioni del nord e del centro Italia, con le prime ore del mattino di lunedì. Invitiamo quindi tutti i cittadini, soprattutto al nord e al centro, a prestare attenzione e a prepararsi a questo maltempo. Naturalmente questo video non è per spaventare la gente, perché nel primo e nell'ultimo resta solo tempesta. Ma lo scopo di questo video è semplicemente che tutti si preparino. Prevenire è meglio che curare ed evitare eventuali disastri dovuti al maltempo. Chissà, forse questa tempesta potrebbe essere la più forte quest'anno. Potrebbe causare danni, quindi è necessaria cautela in tutti i casi. Come dicevo, le regioni del nord e del centro Italia sono fortemente colpite da questo temporale e dalle piogge e forti grandinate, e bardà nelle zone meno sparse del sud. Oppure i venti saranno forti su tutte le regioni italiane da nord a sud. E qualsiasi altra novità importante, cercheremo di concordarla in seguito. Infine, rimani in salute.